Sarà un evento intanto rivolto ai ragazzi disabili e nonno, perché sarà un momento di aggregazione e condivisione attraverso altre associazioni che proporranno giochi, sport, musica e ballo, convolgendo proprio i nostri ragazzi dell'associazione e tutti i presenti. Quindi vi invito a partecipare a questo evento, che sarà un momento di condivisione e sarà anche un momento di cultura, perché presenteremo la nostra associazione.